Anna Paparone, direttrice artistica di Un Mondo di Suoni, tre giorni all'insegna della musica e della moda. Sì, tre giorni all'insegna della musica e della moda perché vede protagonisti per due giorni, due grandi artisti quali Tosca, il giorno 9 nella parrocchia di San Giuseppe ed è insolvitabile il giorno 11 alla Chiesa dell'Assunta. In realtà, e poi il giorno 10 è una giornata dedicata alla moda. Di mattina avremo le escursioni, visite guidate per le zone tipiche del Monte di Procida, mentre la sera ci sarà l'evento moda. L'evento moda dove ci saranno protagonisti, gli stilisti nazionali e internazionali che sfileranno la loro collezione in passerella con intermezzi musicali di Felice Romano e lo showman Diego Sanchez e poi la partecipazione attiva invece delle detenute. Quindi è un progetto che vede il coinvolgimento delle stesse in quanto noi circa 20 anni fa abbiamo iniziato proprio un progetto di inserimento sociale per le ragazze del carcere femminile di Pozzuoli. Sindaco Giuseppe Pugliese, qual è lo spirito dell'iniziativa e cosa rappresenta per Monte di Procida? Lo spirito è in linea con quanto previsto del finanziamento regionale del poco turismo, quello di determinare un incremento nei flussi turistici e soprattutto è in linea con uno sviluppo culturale compatibile con i luoghi e con l'identità del territorio. Noi lo faremo promuovendo eventi che saranno localizzati nei gioielli di Monte di Procida, vale a dire le parrocchie, avremo concerti nella parrocchia principale, quella dell'Assunta, in piazza 27 gennaio dove ci sarà avvitabile, poi avremo Tosca nella parrocchia di San Giuseppe, poi avremo un prestigioso evento di moda e poi con delle luminarie artistiche renderemo tutto il paese più decoroso ed accogliente e diciamo in linea con quello sviluppo turistico, con quegli incrementi dei livelli turistici che Monte di Procida registra già da mesi. Sabato mattina ci saranno delle visite guidate al Monte di Procida, Mara dove ci porterà? Allora, vi porterò insieme alla mia collega Monica di Sinergie Campane al borgo di Cappella, il borgo più antico di Monte di Procida, quello che è rimasto più che altro intatto dall'urbanizzazione del territorio stesso, comunemente chiamato il Casale, dove faremo non solo una semplice visita guidata ma ci saranno anche delle ragazze che vestiranno l'abito tipico montese e qualche artista locale che ci alleterà con poesia e musica e il tutto terminerà con la degustazione di vini locali alle cantine del mare. L'appuntamento a che ora e dove? Appuntamento nel piazzale antistante al comune di Monte di Procida alle 9.30, partiremo con una navetta che ci condurrà al borgo di Cappella e da lì poi inizieremo la visita. Veronica Guerra è una delle stiliste che sabato sera al Monte di Procida sfilerà in Passerella, cosa ci proporrà? In questa occasione sfilerà una capsule collection luxury, sono tutti i capi interamente realizzati a mano, quindi più preziosi e più particolari. In questa occasione si vedrà un pizzico di quello che è in realtà la collezione finale, ma comunque una collezione dedicata all'eleganza, alla ricercatezza del ricamo, del tessuto e anche della foggia dell'abito. Luigi Auletta di Impero Couture, cosa ci proporrà sabato al Monte di Procida? Sicuramente in Passerella vedremo la femminilità, la bellezza, la classe che Impero nelle sue performance mette sempre in vista. In più avremo delle presenze che per me sono un pizzico del mio cuore, nel senso che con le ragazze, vederle di nuovo in Passerella dopo l'evento che abbiamo fatto per l'appunto al carcere, sarà di nuovo rivivere una grossa gioia. Anzi io con l'occasione faccio presente che prima che l'anno nuovo possa venirci a dare il buon auspicio, dovevo fare una bellissima cena con Anna e con le ragazze proprio nel carcere perché ci tenevo da tanto tempo e soprattutto per me è passare dei giorni felici insieme a loro perché sono delle persone straordinarie. Allora siamo in uno splendido scenario, quello di Monte di Procida, come si integra in questo scenario Impero Couture? I campi flegrei erano un obiettivo per noi importante da mettere a fuoco. In cinque anni abbiamo investito tantissimo sulla campania e mancava per l'appunto i campi flegrei. Per il nuovo anno valuteremo seriamente questo bellissimo posto.